Dopo 70 minuti e più di 70 applausi, Giorgia Meloni chiude il discorso con cui chiede e ottiene alla Camera la fiducia, ottenuta con 235 sì, senza nascondere le difficoltà di cui si dovrà fare carico a partire dall'emergenza del caro energia. Sottolinea più volte che questa situazione impedirà di fare subito alcuni provvedimenti che hanno in mente. Si definisce un underdog, lo sfavorito, poiché è arrivata laddove nessuna donna finora era mai arrivata. E poi, rivolta al governo, dice «non ci arrenderemo, non indietreggeremo, non tradiremo». Un linguaggio persino troppo bellico per il contesto di alternanza democratica in cui si muove, avendo vinto le elezioni e non una guerra. È la prima presidente del Consiglio Donna, a capo di un partito di destra che si è affermato primo alle elezioni e che ora è numeri e vuole governare per i prossimi cinque anni, con un cambio di registro, dal fisco al covid fino ai migranti e al sostegno ai più deboli, rivedendo il reddito di cittadinanza. Rivendica le sue origini, Meloni, e specifica di dover superare il pregiudizio politico con cui è guardato il suo governo anche all'estero, secondo lei in parte giustificato. E non a caso, per prima cosa, assicura che l'Italia è saldamente posizionata con l'Occidente contro la guerra di Putin in Ucraina, appieno dentro l'alleanza atlantica. A cambiare sarà però l'atteggiamento. Rispetto delle regole sì, ma anche richiesta legittima di cambiarle, non per sabotare l'UE, ma per avvicinarla ai cittadini. Non sarò mai la cheerleader di nessuno, aggiunge nel corso della replica, dove il tono diventa più acceso. Dove si lascia andare a qualche espressione romanisca, le scappa il tuo al deputato di Verdi sì, Abubakar Saomaoro, e sbaglia la pronuncia del suo nome, e risponde direttamente alla deputata Dem Deborah Serracchiani. Le sembra che io stia un passo indietro agli uomini? Dice, prima di chiarire che per lei la libertà delle donne non si misura nel farsi chiamare capatrena, rendendo totalmente poco credibili nei fatti tutte le promesse che fa parole alle donne. Onoranze funebri Pezzella. Funerali a rate anche senza busta paga. Perchè a papà è a morire, c'è sempre un tempo.